se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia un like la storia di bella kiss è una di quelle che lascia confusi e sgomenti un intreccio di bugie manipolazioni e omicidi che hanno terrorizzato budapest durante la prima guerra mondiale kiss un lattaio di professione era riuscito a nascondere la sua vera natura di assassino dietro un'apparenza di normalità e successo nel 1916 la città di cincota in ungheria fu scossa da un terribile caso di omicidi seriali che avrebbe fatto tremare persino i più coraggiosi un uomo di nome bella kiss apparentemente un tranquillo venditore ambulante nascondeva dietro la facciata di normalità a uno scuro segreto che avrebbe scioccato l'intera comunità e le autorità tutto ebbe inizio quando un gendarme durante un'ispezione di routine nella casa di bella kiss scoprì qualcosa di orribile nei tamburi presenti nel cortile i resti di giovani donne alcune erano state crudelmente uccise e imbalsamate per essere conservate altre erano scomparse senza lasciare traccia l'orrore di ciò che il gendarme trovò fece rapidamente il giro della città suscitando paura e disgusto tra la popolazione nel 1919 un altro agghiacciante dettaglio venne alla luce gettando ulteriore luce sull'oscurità della mente di bella kiss la casa dell'assassino nel frattempo confiscata e trasformata in un ospedale militare svelò ai nuovi proprietari una stanza segreta contenente manichini di donne questi manichini avevano tratti somatici delle vittime reali di kiss creando una scena disturbante che rivelava ulteriormente la natura turbida delle azioni dell'assassino nonostante tutti gli sforzi delle autorità per rintracciare bella kiss il suo destino rimane avvolto nel mistero alcuni sostengono che morì in un incidente d'auto in turchia mentre altri credono che abbia fatto perdere le sue tracce e sia fuggito in america per continuare la sua folle serie di omicidi la verità sulla sorte finale di bella kiss rimane ancora incerta alimentando leggende storie che si tramandano ancora oggi la storia di bella kiss è diventata nel tempo uno dei casi più inquietanti di omicidi seriali nella storia della criminalità le motivazioni che lo spinsero a compiere tali atrocità e il destino che lo attendeva restano ancora un enigma lasciando spazio a teorie e congetture su ciò che possa essere realmente accaduto forse il mistero di bella kiss e la sua oscura e disturbante storia continueranno ad affascinare e spaventare le menti curiose per generazioni a venire la sua vita cambiò drasticamente quando venne chiamato a servire nell'esercito durante la prima guerra mondiale con la sua partenza lasciò la sua casa sotto la cura della sua governante insieme alle sette misteriose botti di metallo che aveva sempre mantenuto sotto la sua cura nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa contenessero quelle botti nel luglio del 1916 la polizia di budapest ricevette una chiamata da un padrone di casa di cincota preoccupato per il contenuto delle botti di metallo lasciate da kiss nonostante le proteste della signora yakubek governante di kiss le botti furono aperte dalla polizia alla ricerca di benzina ma ciò che trovarono fu ben oltre ogni aspettativa i corpi di donne strangolate sette botti sette donne uccise brutalmente ma non era finita lì durante la successiva ispezione della casa di kiss la polizia scoprì altri corpi portando il totale a quasi 24 vittime la signora yakubek pur essendo sotto shock per la terribile scoperta protestò di non sapere nulla dei crimini del suo datore di lavoro le indagini portarono alla luce una stanza segreta nella casa di kiss contenente libri su avvelenamenti e strangolamenti insieme a lettere che dimostravano la corrispondenza con decine di donne si scoprì che kiss aveva iniziato la sua serie di omicidi anni prima fingendo di essere un ricco vedovo per attirare le sue vittime mentre truffava denaro e infine le uccideva con ferocia l'orribile verità sulle sue vittime venne alla luce insieme alla sua abitudine di conservarne i corpi come trofei il processo di conservazione in alcol e la rimozione del sangue dai corpi guadagnarono a kiss il titolo di vampiro di cincota ma cosa lo spingeva a commettere tali atrocità si parlava di un'ossessione per il potere e il controllo sulle donne unita a una sete di sangue che lo portava a commettere omicidi rituali la polizia non perse tempo e iniziò immediatamente una caccia serrata a bella kiss per catturarlo e portarlo davanti alla giustizia tuttavia l'assassino riuscì a sfuggire alla cattura e a dileguarsi lasciando dietro di sé solo domande senza risposta la storia di bella kiss divenne subito di dominio pubblico e l'orrore degli omicidi commessi da lui provocò un'ondata di terrore e paranoia tra la gente la cattura di bella kiss divenne una priorità assoluta per le autorità ma la guerra in corso e la sua fuga resero difficile rintracciarlo si seppe che si trovava in uno ospedale serbo nel 1914 ma quando l'ufficiale investigativo lo raggiunse kiss era già fuggito lasciando dietro di sé solo un cadavere di un soldato come copertura e così bella kiss scomparve nel nulla sfuggendo alla giustizia e lasciando dietro di sé un'ombra di mistero e terrore la polizia indugiando in molte piste nel tentativo di rintracciarlo si trovò sempre un passo indietro rispetto al temibile assassino nonostante le segnalazioni nel 1920 e nel 1932 bella kiss riuscì a sfuggire ancora una volta alla cattura dimostrando di avere un'abilità sovrumana nel nascondersi e nel non lasciarsi scovare il destino finale di bella kiss rimase avvolto nel mistero lasciando la gente a chiedersi cosa fosse accaduto al famigerato assassino dov'era andato kiss aveva continuato a uccidere in segreto e che dire dei racconti che lo dipingevano come un vampiro un essere demoniaco che si nutriva del sangue delle sue vittime se bella kiss fosse ancora vivo ai giorni nostri avrebbe compiuto quasi 150 anni un'età impensabile per un uomo mortale ma se ci fosse un briciolo di verità nei racconti che lo descrivevano come un essere sovrannaturale potrebbe ancora essere là fuori in agguato nell'ombra pronto a colpire di nuovo il caso di bella kiss continua a suscitare interesse e fascinazione con molte teorie e ipotesi che cercano di gettare luce su quello che realmente possa essere accaduto al temuto assassino le immagini dei corpi trovati nella sua cantina privi di sangue e consegni di violenze indicibili continuano a suscitare orrore e sgomento alimentando la leggenda di bella kiss come uno dei più spietati criminali della storia ma forse la verità su bella kiss resterà per sempre avvolta nel mistero un enigma irrisolvibile che continuerà a tormentare l'immaginazione di chiunque si imbatta nella sua storia e mentre il tempo passa e i ricordi svaniscono bella kiss rimarrà un'ombra oscura nella storia criminale un nome che porta con sé il peso di orrori indicibili e di un male insondabile la storia di bella kiss rimane avvolta nel mistero e nell'orrore unico e spaventoso come uno dei più oscuri racconti della storia criminale un uomo che nascondeva dietro un volto affascinante e un sorriso seducente l'orrore e la morte un mostro che terrorizzò budapest con la sua fame insaziabile di sangue e potere grazie a tutti